3 punti ooooh eccoci qua amici si ritorna a fare dei live reaction l'ultima risale a Milan-Inter quando abbiamo preso 3 pere da lì non ne ho fatte più basta, chiuso, stop questa sera Torino-Milan mancano 6 punti alla Champions League 6 punti alla Champions League spero di prendere 3 già questa sera, voglio vedere una partita come quella contro la Juve di grinta, di cuore, un grande Milan voglio vedere, sono carico, a bestia e sono positivo, mi raccomando iscrizione al canale, campanella, commento like, fate tutto quello che dovete fare oh arriva dai tre punti arriva dai tre punti arriva dai tre punti ecco lì arriva dai tre punti arriva dai tre punti che si Sirico poi Castiglieco palo occasione per il raddoppio per il Milan con un'altra bella azione corale da Revic a Teo Hernandez e testa che spazza Sirico 2-0 per il Milan il presidente che si timbre al cartellino e andiamo a prenderci questi 3 punti ma lo fa una cosa da pazzi regala il pallone Bremer Donnarumma salva tutto e poi Mandragora anzi Bonanzoli svirgola il fallo laterale Cianov ha fatto una cosa veramente senza un senso di rigore lascia lì Abrahim Diyan ecco lì ecco lì andiamo a prenderci questi cazzoli 3 punti dai ecco lì come cazzo come cazzo Terrandez che fa il centro avanti e che riceve in area di rigore ancora Terrandez alza su one-stitch di Rebic rapidissimo guardiaio 4-0 per il Milan che gioca al calcio paradisiaco siamo calmi siamo calmi per Krunic si è inserito bene senza palla Krunic tocca corto per Rebic 5-0 per il Milan inarrestabile la squadra di Stefano Pioli 6-0 rigore col ginocchio Rebic fa 7-0 e fa tripletta 7-0 per il Milan Forza lotta vincerai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi non vi lasceremo mai non vi lasceremo mai